Buona domenica a tutti! Vi siete svegliati bene? Spero di sì. Io mi sono svegliato riguardando bene la situazione sull'S&P 500, l'indice principale al mondo, quello che comanda i movimenti di tutti gli altri praticamente, gli influenza diciamo che è ancora migliore, come cosa anche io mi sono svegliato non da tantissimo tempo. Allora, a che punto siamo arrivati? Per quanto riguarda l'indice, molto semplicemente abbiamo fatto un primo ciclo settimanale da qui a qui, un secondo fino a qui, e il terzo è iniziato qui, da questo minimo del 22 di ottobre, ed è andato tanto su. Su questo grafico possiamo vedere che può essere arrivato a 10 barre su al massimo 11, e peraltro essendo arrivati a 24 giorni complessivamente, si potrebbe chiudere al 25 e che cosa fare? Eh, bisogna anche vedere che cosa fare d'inverso, perché d'inverso la scorsa settimana segnalavo che si poteva andare a fare uno short a determinate condizioni. Sono arrivate? Assolutamente no, non sono proprio arrivate per niente, per cui ha continuato a salire. Ma attenzione, un ciclo mensile inverso, il primo T più 2 inverso di questo T più 3 inverso trimestrale, può andare a durare 45 barre? Ma non erano 43 le massime che può durare, sono due giorni in più. No, come indicato nel grafico, è a prova di stupido, abbiamo che la prima interruzione del nostro T più 2 inverso, la chiusura, c'è stata ampiamente su questo massimo a 36 barre. Successivamente è partito che cosa? Un raccordo inverso di grado T settimanale inverso, e che quindi si pone tra un T più 3 e un T più 3. Per cui, ok? A questo punto, il tempo è abbastanza agli sgoccioli per chi pensa che si possa salire. Perché? Prima di tutto qui abbiamo una doji vera e propria. Una candela giapponese che ci dice Potremmo andare in pausa al trend di salita. Unica eccezione è il superamento del massimo a 4718,50. Perché ogni candela ci dice qualche cosa, ma può essere annullata. Questo spero che sia molto chiara come cosa. E dato che questa è proprio posta nel posto migliore, dove tra l'altro poteva già essere posta a questa, quindi grazie, bella finta di discesa e poi per accordo, ovvero lingua di Bayer, ovvero finta a ribasso con rialzo successivo. Grazie, grazie mille. A questo punto mi aspetto discesa. Ma attenzione, non andrò a fare degli short sull'S&P 500, che è già una cosa che mi fa venire un attimo di brividi, perché è una certa statistica questo indice, a meno che non succedano determinate cose. La prima cosa che deve succedere è questa. Si deve andare sotto questo minimo qua a 4.667 dollari. Se non ci si va, non vado short. Questo è il sistema di controllo. Perché? Perché sotto questo minimo si fa partire un nuovo T-1 inverso, si va sotto la media mobile a 50 periodi, e se arrivano anche i volumi, si prosegue a scendere verso quella a 200 periodi, quella in blu. Per cui, se non... Se si va sopra questo swing assoluto, ovvero il massimo assoluto fatto da S&P 500 a 4.718, col cavolo che vado short, ma neanche nei sogni, ok? E questa è la differenza che c'è tra analizzare bene un grafico e ascoltare e capire bene un grafico, o fare later, o fare quello che diceva, ma tu dicevi che si doveva scendere. Sì, ma delle condizioni. Non per grazia ricevuta. Se le condizioni non ci sono, non ci vado short. Peraltro, vi faccio notare un'altra cosa interessante, ovvero, qui, da questo minimo qua, a tornare indietro, abbiamo almeno 24 barre in cui non si va da sotto questo minimo, tornando a ritroso. Sì. Quindi, se la risposta è sì, ricordiamoci che l'S&P 500, quando è in tendenza, tendenza volumetrica molto forte, rialza, peraltro, e nasconde le partenze di nuovi T settimanali. Per cui, da qui, può essere tranquillamente iniziato con una chiusura parziale ribassista solo di 24 candele del settimo T-3, cosa che ci dice solo l'analisi ciclica evoluta, non la base, può essere partito un nuovo T settimanale. Quale T settimanale? Il quarto. Per cui, attenzione, uno mi potrebbe dire Jacopo, caspita, però, dopo un nuovo T-3, qui magari è partito già al decimo, si scende per 1, si scende per 2, non si scende tanto. Come fa a partire un nuovo mensile inverso? Se invece ci diciamo che da qua è partito un nuovo settimanale che è arrivato a 3T-3, capirete bene che, dato che può arrivare fino a 11, abbiamo 8 candele che possono andare ben sotto questo livello, sotto questo, e poi andare ancora più sotto, ovviamente, andare ancora più in giù. Ma ribadisco, solo e se avremo la condizione sufficiente, ovvero la violazione di questo minimo per iniziare a scendere. Condizione che ci dirà già che un T-1 inverso, un ciclo di minimo 3 giorni, massimo 5 giorni, si aggiunge a quanto abbiamo già visto. E di tempo qui non ne abbiamo più, d'accordo? Non ne abbiamo più perché siamo già all'interno di un raccordo inverso, che ha già prolungato di qualche giorno la durata massima di un mensile inverso. Ecco perché già qui la scorsa settimana vi avevo avvisato, vi avevo detto attenzione, se mettono raccordi, poi si parte a scendere rapidamente, solo se vengono violati gli swing di minimo, se no, no. Ma lo sa solo chi si impegna e studia la ciclica voluta. Chi non lo sa e si dedica a altro oltre al trading, faccia quello che vuole. Non mi interessa averlo sicuramente tra le persone che voglio informate, capaci e professionali all'interno del canale di YouTube, perché mi interessa essere arricchito dalle persone, da chi mi racconta cosa può esserci che non va in una centratura, piuttosto che in una riflessione, piuttosto che in tantissime altre cose. Queste sono le persone preziose di cui voglio circondarmi per il mio circolo virtuoso. Le persone invece che si lamentano, perdonatemi, ma ce ne sono già troppe nella vita, se ne incontrano talmente tante che si possono si possono incontrare ogni angolo. per cui ci sono gli sconti su questo genere di persone che si lamentano e basta. Chi invece fa una parte molto piccola della popolazione? Ecco perché mi trovo bene con gli imprenditori. Ecco perché ragiono per dare soluzioni anche a chi non si occupa soltanto di trading, perché ha un patrimonio e magari può essere interessato ad ascoltare informazioni di valore su quello che si può fare con un patrimonio anche soltanto a livello di risparmio dei costi di gestione dati dal private. Perché una delle prime domande che faccio a investitori evoluti è qual è il TER della tua banca? Ovvero quanto ti costa avere qualcuno che ti gestisce gli investimenti? Sai che ci sono soluzioni alternative? Nel caso tu ne voglia sapere qualche cosa sono la persona giusta per cui anzi sono la persona giusta con cui parlarne. Questo è quanto per anche quanto riguarda il circolo virtuoso vi augo una buona domenica e mi preparo ad andare a gustare un favoroso pranzetto. Arrivederci!